Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Allora, c'è qualcosa del vostro personaggio che vi spiegherà come persone e cosa vorreste portare voi nel personaggio? Is there something about your character that reflects you as a person and what would you bring into your character? Sì, l'abbiamo. Is there something about your character that identifies with you as a person you identify with, what would you bring into your character? Just to clarify, what would you bring into your character? Into my character, yeah. Well first is what I identify with my character. That would be the drivenness that Maya has. I mean she's obviously more, she's delicious and could be a little over determined sometimes. But that drive, I do, I think, should have quality with Maya. I have that drive. Anything I put my mind to. I'm going to usually do. And then the thing that I add to Maya, I hope, I hope, is like her gentleness. I hope. Like when, you know, she tends to be pretty hard. And she doesn't have as much gentleness that she does with Karina. But I hope that that's something. I would, I see more Danielle when it's Maya in the green scene. Yeah. I would see Danielle all in that position. Yeah. Okay. That's what you just made first. Okay. Yeah, okay. Sì. Diciamo che si identifica molto nel fatto che sia concentrata, si identifica in Maya, per essere concentrata e sempre una che si spinge a fare cose. e quindi la sua, la sua, la sua forza di volontà. Forza di volontà. Sì. E quello che volete aggiungere al personaggio, invece, questo è il polizio diretto, perché magari il personaggio di Maya così forte, però vediamo che il polizio diretto nel rapporto che ha con Karina. Quindi in quel momento dai del poli Damien. Allora, per me è come se comunque i due personaggi c'è, adesso stiamo in aprivo e io sono un po' infecciati, nel senso che il personaggio ha tante qualità comune con me, nel senso che sono tramite le mani, tramite le mani, tramite le mani all'estero, tramite e non no, 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 no. No, 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 no. La cosa che porto, che io adoro, adoro un voto, è felicità, perché molto felicità. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. Quindi la domanda era, c'è questa grande spinta verso la diversità in Hollywood, sia dalla parte dello scegliere i personaggi che nelle più. Come registe, donna, pensate che queste dinamiche di potere stiano cambiando? Sì, decisamente. Decisamente, però sì. Poi comunque, nell'universo di Shotland, non è la prima volta che spinge verso l'università, non è la prima volta che spinge verso l'università, non è la prima volta che spinge verso l'università. Numero 19, numero 19. Noi, non è la prima volta che spinge verso l'università, non è la prima volta che spinge verso l'università. I know because we just said she didn't mean great for me and remind me what I said again You said I want a letter of you to count my blessings on I want a version of you that I can count my blessings on Thank you I mean I used to think that my life was high time by time I don't know if that's a really simple thing Sorry, you don't have to be Ah, la nostra scena preferita è la stessa perché l'abbiamo appena menzionata I'm still in my job, this one Non è buono L'abbiamo appena menzionata è la scena dove praticamente Maya decide che vuole provare ad avere un figlio E dice voglio una piccola versione di te sulla quale posso notare i miei blessings No, no È tanto È tanto Oh Sì 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 Noi più di me? Noi più di me? Noi più di me? Io posso continuare a parlare. Ok, una domanda. Número 24. 24. Ma chi è questa domanda? Ma però... Ok. Poi ho parlato in inglese. Daniela, hai detto che sei un nuovo progetto che ho parlato dopo il mondo in World War II e voglio sapere più di questo. E voglio sapere più di questo. Come a chi? 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 Ma chi? And I think it really takes place in the US. It's some stuff that happened here during World War 2. Um, I want to tell you the whole story. But I can't. But I'm really proud of it in the works. And it's all revolve around women at that time. Um, yeah, I'm really proud of it. And more day. One day you guys will pay for the love. La sapo. parte in esso. In realtà non ci può dire molto, però ci può dire che si verrà in America, cioè la national directora, non mi può presentare tutta la storia, ma è davvero orgogliosa perché comunque il progetto è un'altra volta a torno a un'ingresso femminile e femminile. E' un libro, grazie, non c'è sempre. Ma anche se è una TV show, quindi si evolverà nel tempo. Numero tre, Ale è portogallo. Numero tre. Ciao, le domande per entrambi e volevo sapere se avevate mai pensato di dirigere il film insieme come funziona o come funziona oltre Station 19. Noi. 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 What would you like to see in my and Karina's future? A baby. I love her already, a baby. I mean, 20 minuti. I mean, that's the most obvious. I would love to see them both be mothers and what that means for their life and careers as women. Like, how does that affect raising a child with two women that have full-time jobs and really get to see the representation of that? I'm really, really, really excited for that. In the process of getting pregnant as a couple, as a female? Yes! La domanda era, quando mi chiesto di vedere il futuro di Maria e Karina? Forresto è un bambino, e in realtà proprio il fatto di vedere le grandi madri, pur avendo comunque una carriera da portare avanti, quindi sarebbe interessante vedere quello sviluppo. che mi chiesto di vedere con tutto questo processo di approfondazione e quindi di rimanere in cinque. E' una notte di madri, che era una coppia di donne. e la Ungici, Nora. Grazie a tutti. 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 Do we have a next question? Yes. No. Do we have a next question? No. No. No.